Apparente indiferenza di italiani a la plaita della Roma. E questo è un punto più generale. E tu sei il ministro fornito e tu sei la mia headlight. E tu sei sicuro che questi due sono italiani e non britici? Questi due persone che sono là? Purtroppo sono britici, danici o francesi. Perché italiani? Do you think it would be impossible for italiani to have that? Do you think it would be impossible for italiani to have that? Do you think it would be impossible for italiani to have that? Incalzato dal giornalista della BBC Stephen Sacco? In perfetto stile anglosassone, il cronista ha più volte interrotto il titolare della farnesina. Tartassandolo con domande sulla politica del governo Berlusconi in materia di sicurezza e paventando una deriva razzista e fascista del nostro paese. A un certo punto il giornalista ha mostrato a Frattini la prima pagina di un giornale inglese in cui si vede la foto di alcuni turisti che sulla spiaggia di Napoli prendono il sole mentre vicino a loro giacciono i cadavoli di due rom annegati da poco. Per il cronista un esempio dell'indifferenza verso gli stranieri che regna in Italia. Frattini non l'ha presa bene. Per un momento ha messo da parte il suo tradizionale aplomb e parecchio innervosito è passato al contrattacco. Chi le dice che quelle persone in spiaggia non siano suoi connazionali è attaccato. Non potete speculare su questa immagine per accusarci di razzismo. Non potete speculare su questo fatto che questi sono italiani e quindi italiani sono razzisti. Mi regetto fortemente qualche argomento.